Torna in cella Nicola Rullo Il clan camorristico che insieme a Licciardi e ai Mallardo ha costituito l'alleanza di Secondigliano era scomparso un mese fa quando aveva presagito l'esito sfavorevole del suo ricorso in appello contro una condanna in primo grado per estorsione aggravata da finalità mafiose. Rullo era stato assolto in primo grado ma i giudici di appello hanno accolto il ricorso della DDA condannandola a 10 anni di carcere. Sorpresi mentre dormivano nelle stanze a piano terra il ricercato e il suo uomo di fiducia si sono lasciati ammanettare senza opporre resistenza. Al piano superiore c'era invece il nipote di Rullo, Davide Geldi, che nelle stanze aveva 100 grammi di droga, marijuana e hashish.